E' accusato di aver abusato di una giovane paziente durante un trattamento in ospedale. Un fisioterapista di 46 anni che esercita la professione in una struttura sanitaria della città metropolitana di Milano è finito venerdì 21 aprile agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale. E' stata la denuncia della vittima in procura per scattare le indagini dei carabinieri della sezione di polizia giudiziaria. Gli accertamenti avviati a febbraio hanno portato la PM Alessia Menegazzo, coordinata dall'Aggiunto Letizia Mannella, a chiedere la misura cautelare. Un'istanza accolta da un giudice per le indagini preliminari che ha riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza. Gli inquirenti ipotizzano che il fisioterapista abbia abusato di altre pazienti. Come si legge in una nota dei carabinieri, non potendo escludere la presenza di altre possibili vittime, Gli accertamenti degli inquirenti stanno proseguendo in questa direzione ed è auspicabile che eventuali persone informate sui fatti si rivolgano ai numeri 0254332570 o allo 0254332553, ai quali risponderanno gli operatori di polizia giudiziaria che riceveranno le segnalazioni con le più assolute garanzie di riservatezza garantite dalla legge.